È un'occasione importantissima, difficile da organizzare, come ovviamente ognuno di noi può comprendere, in un'epoca così difficile come è quella attuale del Covid. Comunque sono presenti 16 equipaggi per 9 nazioni, il che ci ha reso particolarmente contenti e felici. È molto importante, siamo grati alla Federazione Internazionale, FIPSMER e la Federazione Italiana Pesca Sportiva, di averci insegnato di questa importantissima manifestazione. Un ringraziamento particolare andrà anche a tutti i nostri amici tonni che mangeranno le nostre esche e che per nostra fortuna verranno liberati al termine, filmati e liberati al termine dell'azione di pesca. Quindi una pesca no kill non succede nessun pesce e questo siamo particolarmente felici perché la Federazione ha abbracciato questa disciplina no kill da diversi anni e noi siamo degli interpreti di questa manifestazione. Ed è un modo per promuovere il territorio, per promuovere sia le attività di pesca, sia il mondiale se stesso, ma anche per promuovere il territorio. La pesca deve essere un veicolo per il territorio, per la promozionalità. Questo è il nostro obiettivo, il nostro obiettivo con questo mondiale, è il nostro obiettivo quello che stiamo realizzando a Pesaro, anche se Pesaro è centrale per la federazione e per alcune attività importanti come il big game.